E' stato attivato alla Fondazione Giglio di Cefalù un ambulatorio di oncoematologia. Sarà curato dal dottore Antonio Moulet, oncoematologo specializzato nella diagnosi e cura dei processi linfo-proliferativi. Siamo orgogliosi, ha commentato il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, di ampliare offerta sanitaria e di poter dare una risposta nel territorio a tanti pazienti che erano costretti a recarsi nell'area metropolitana. Lo facciamo, ha aggiunto, con un professionista di grande esperienza, avvalendoci per l'iter diagnostico di una convenzione attivata con il Laboratorio di Anatomia Patologica e Biologia Molecolare dell'Ieo di Milano. L'ambulatorio di oncoematologia è stato inserito nella programmazione sanitaria della struttura tutti i mercoledì pomeriggio per accedere alle visite necessarie alla prescrizione del medico di famiglia e quindi la successiva prenotazione attraverso il CUP della Fondazione. L'attività, ha sottolineato il dottore Moulet, sarà rivolta alla diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche, con particolare riferimento ai processi linfoproliferativi cronici come linfomi, leucemie croniche, linfatiche e mielomi. L'ambulatorio consentirà inoltre a tutti i pazienti affetti da patologie oncoematologiche di effettuare periodiche visite di controllo. Il Giglio dice che fa lui in grado di offrire a questi pazienti, per il loro follow-up, un'indagine diagnostica innovativa attraverso l'impiego della risonanza magnetica. L'ambulatorio di oncoematologia opera all'interno dell'unità di oncologia diretta da Massimiliano Spada.